Guardia di Finanza caccia di chi specula sull'emergenza in atto, nel merino dei militari, farmacie e parafarmacie, ma anche gli esercizi che continuano l'apertura al pubblico. Ieri sera i baschi verdi di Pescara, ovvero la compagine antiterrorismo, hanno fatto irruzione in un'attività di Montesilvano in cui si vendevano disinfettanti e mascherine a prezzi spropositati. Messi a confronto il prezzo d'acquisto del materiale e quello di vendita, la Guardia di Finanza non ha avuto dubbi. L'aumento e giustificato dei prezzi è stato effettuato esclusivamente a fini speculativi. Vi erano infatti rincari anche del 380%. L'operazione si è conclusa col sequestro di 710 mascherine e 20 flaconi di gel igienizzante e il deferimento di due soggetti per i reati di frode in commercio e manovre speculative su merci. I commercianti in questione forse si sfregavano le mani pensando al profitto in piena coerenza con le leggi di mercato. Diminuita l'offerta ed esplose la domanda, i prezzi sono così destinati a diventare vergognosi.